Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi ci troviamo in una delle regioni più affascinanti d'Italia, la Toscana. Con il suo paesaggio incantevole, la ricca storia culturale e artistica e la cucina deliziosa, la Toscana è una vera gemma nel cuore dell'Italia. In questo video vi condurrò in un viaggio attraverso le città più belle della Toscana, scoprendo le loro meraviglie nascoste, esplorando le loro piazze pittoresche e ammirando le loro opere d'arte straordinarie. Che tu sia un appassionato di storia, un amante della natura o un semplice curioso, c'è qualcosa qui per tutti. Dalla maestosità di Firenze, con i suoi capolavori rinascimentali, alle affascinanti strade di Siena, dove il Medioevo prende vita ogni giorno, passando per le colline toscane punteggiate da vigneti e borghi antichi, questa regione ha davvero molto da offrire. Prima di iniziare questo incredibile viaggio attraverso la Toscana, assicurati di iscriverti al canale e attivare le notifiche in modo da non perdere neanche uno degli affascinanti luoghi che esploreremo insieme. E ora, senza ulteriori indugi, iniziamo questa avventura alla scoperta delle città più belle della Toscana. Firenze. La Culla del Rinascimento è una città dove ogni angolo racconta storie di arte, cultura e bellezza senza tempo. Il Duomo di Santa Maria del Fiore, con la sua maestosa cupola rossa, domina il panorama di Firenze, un simbolo di grandezza architettonica. Perdersi tra le stradine medievali di Firenze è come fare un viaggio nel tempo, alla scoperta di tesori artistici nascosti in ogni vicolo. Pisa. Famosa per la sua torre pendente, è molto più di un'iconica attrazione. È una città ricca di storia e cultura. Nel cuore di Pisa, la piazza dei miracoli con la sua torre pendente, il Duomo e il Battistero incanta i visitatori con la sua bellezza straordinaria. Pisa è una città universitaria vibrante, dove il passato e il presente si fondono, offrendo esperienze culturali uniche e un'atmosfera vivace. Siena. Con la sua affascinante Piazza del Campo e il Duomo di Siena, è un gioiello medievale che cattura il cuore di chiunque la visiti. I colori caldi delle facciate delle case a Siena si fondono perfettamente con il paesaggio circostante, creando un'atmosfera unica e magica. Siena è rinomata per il suo Palio, una corsa di cavalli emozionante che si svolge due volte all'anno nella Piazza del Campo, radunando la comunità in una festa di tradizione e competizione. Pistoia. Spesso trascurata dai turisti, è una città toscana autentica e affascinante, con un centro storico ricco di tesori nascosti. Il Duomo di Pistoia, con la sua splendida facciata romanica, è una delle gemme architettoniche di questa città, che offre un'esperienza culturale autentica. Pistoia è famosa anche per il suo meraviglioso giardino pubblico, l'Orto Botanico, un'oasi di tranquillità e bellezza botanica nel cuore della città. Livorno. Con il suo importante porto e la sua vivace atmosfera marittima, è una città costiera che mescola tradizione e modernità in modo affascinante. Le pittoresche vie del quartiere Venezia a Livorno sono piene di canali e ponti, creando un'atmosfera simile a Venezia e offrendo un'esperienza unica. Livorno è anche conosciuta per la sua tradizione culinaria, con piatti di pesce fresco deliziosi e una vasta gamma di specialità locali da gustare nei suoi ristoranti e mercati. Grosseto. Situata nella regione della Maremma in Toscana, è una città che combina la bellezza naturale delle spiagge e delle colline con una storia ricca e un patrimonio culturale affascinante. Il centro storico di Grosseto è circondato da mura medievali ben conservate e offre una passeggiata affascinante tra antichi palazzi e piazze pittoresche. Grosseto è un punto di partenza ideale per esplorare la Maremma, con le sue riserve naturali, le terme, le spiagge incontaminate e le tradizioni gastronomiche locali che delizieranno i visitatori. Greve in Chianti. È una graziosa cittadina nel cuore della regione vinicola del Chianti, circondata da colline coperte di vigneti e oliveti. Il Viale dei Cipressi, con le sue file di cipressi, conduce a Greve, creando un'entrata suggestiva in questa località famosa per il suo vino di alta qualità. Greve in Chianti ospita un vivace mercato del sabato, dove puoi assaporare i prodotti locali, compreso il prelibato olio d'oliva e i rinomati vini Chianti Classico. Montepulciano. È una deliziosa cittadina situata in cima a una collina, famosa per il suo vino nobile e le sue strade medievali affascinanti. L'architettura rinascimentale di Montepulciano è evidente nella splendida Piazza Grande, circondata da eleganti palazzi e dalla maestosa chiesa di San Biagio. La vista panoramica dalla cima di Montepulciano offre uno spettacolo mozzafiato sulle colline toscane circostanti, rendendo questa città un luogo ideale per una visita indimenticabile. Volterra. È un incantevole borgo collinare della Toscana, noto per la sua storia etrusca ben conservata e l'atmosfera medievale affascinante. Il teatro romano di Volterra, risalente all'epoca romana, è un sito archeologico straordinario che testimonia la lunga storia di questa città. Le pittoresche strade di Volterra sono costeggiate da negozi di artigianato locale, dove puoi trovare splendidi oggetti in alabastro, una delle specialità della città. Cortona. Situata in cima a una collina toscana, è un affascinante borgo medievale con strade acciottolate e una vista panoramica spettacolare sulla campagna circostante. Le mura medievali ben conservate di Cortona offrono un'atmosfera autentica e un'opportunità per una piacevole passeggiata lungo le antiche fortificazioni. Cortona è stata immortalata nel libro e nel film Sotto il sole della Toscana. E la sua bellezza e il suo fascino la rendono una destinazione imperdibile per gli amanti della cultura toscana. Arezzo. Con il suo affascinante centro storico, è una città toscana ricca di storia e cultura, nota per le sue piazze affascinanti e il patrimonio artistico. La Basilica di San Francesco ad Arezzo è famosa per gli affreschi di Piero della Francesca, che rappresentano alcuni dei capolavori dell'arte rinascimentale. Ogni primo weekend di settembre, Arezzo ospita la Giostra del Saracino, un affascinante torneo medievale che riporta indietro nel tempo i visitatori in un'atmosfera di festa unica. San Gimignano. È un affascinante borgo toscano noto come la città delle torri per le sue torri medievali ben conservate, che creano un panorama unico. Il centro storico di San Gimignano è un patrimonio dell'UNESCO e offre una passeggiata attraverso il tempo, con strade lastricate e pittoresche piazze. San Gimignano è rinomata per il suo gelato artigianale, con gusti deliziosi e originali che rendono l'esperienza di visitare questa città ancora più dolce. Lucca. È una città toscana incantevole, circondata da mura medievali ben conservate che offrono un'atmosfera unica e invitano a una passeggiata panoramica. Il Duomo di San Martino a Lucca è una meraviglia architettonica con una facciata spettacolare e un interno ornato di opere d'arte preziose. Le strette stradine e le piazze di Lucca sono piene di caffè, negozi e ristoranti accoglienti, rendendo questa città un luogo perfetto per immergersi nella cultura toscana. Bolgheri. È un incantevole borgo toscano noto per il suo Viale dei Cipressi, una strada alberata con alte file di cipressi che conduce all'ingresso del paese. Questa pittoresca località è circondata da vigneti e produce alcuni dei vini più pregiati d'Italia, tra cui il famoso Sassicaia. Bolgheri offre un'atmosfera tranquilla e affascinante, con stradine acciottolate e una piazza centrale, dove è possibile degustare vini locali e piatti tipici della cucina toscana. Lari. È un affascinante borgo toscano situato su una collina, noto per il suo castello medievale ben conservato e la vista panoramica sulla campagna circostante. Il castello di Lari è una testimonianza della storia medievale della città e offre la possibilità di esplorare antiche torri e camminare lungo le mura fortificate. Lari è una località tranquilla e suggestiva, ideale per una piacevole passeggiata tra le sue strade lastricate e per assaporare la cucina toscana in uno dei suoi ristoranti accoglienti. Montalcino. È una graziosa cittadina collinare toscana, famosa per il suo vino Brunello di Montalcino e le sue affascinanti strade medievali. L'antica fortezza di Montalcino domina la città e offre un'incantevole vista panoramica sulla campagna toscana circostante. Montalcino è un luogo ideale per degustare il rinomato vino locale, esplorare le cantine vinicole e immergersi nell'atmosfera rilassante di questo affascinante borgo toscano. Pienza. Conosciuta come la città ideale, è un gioiello rinascimentale che incanta i visitatori con la sua architettura elegante e le sue strade pittoresche. Il Duomo di Pienza è un capolavoro dell'architettura rinascimentale e domina la splendida Piazza Pio II, il cuore della città. Pienza è famosa per il suo formaggio pecorino, che puoi degustare nelle botteghe locali insieme ad altri prodotti tipici, regalandoti un'esperienza culinaria straordinaria. Vinci. È un affascinante borgo toscano, famoso come città natale di Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni della storia. Il Museo Leonardiano di Vinci è un luogo imperdibile per gli amanti dell'arte e della scienza, dove è possibile esplorare le invenzioni e le opere di Leonardo. Le colline verdi circostanti, Vinci offrono un paesaggio incantevole e un'atmosfera serena, che ispirò sicuramente il genio di Leonardo durante la sua infanzia. Monterigioni. È un suggestivo borgo medievale circondato da mura perfettamente conservate, che evocano un'atmosfera autentica dell'epoca. Questo piccolo gioiello toscano è stato citato da Dante nella Divina Commedia, e una visita qui è come un viaggio indietro nel tempo. Le mura di Monterigioni offrono una vista panoramica spettacolare sulla campagna toscana circostante, rendendo questo borgo una destinazione imperdibile per gli amanti della storia e della bellezza paesaggistica. Massa marittima. È una suggestiva città toscana situata su una collina, famosa per la sua piazza medievale spettacolare e la sua cattedrale affascinante. La piazza Garibaldi di massa marittima è circondata da palazzi storici e offre un'atmosfera festosa, soprattutto durante il suo festival musicale estivo. Questa città, affacciata sulla Maremma, offre ai visitatori l'opportunità di immergersi nella storia e di godere di un'atmosfera autentica in un contesto di bellezza paesaggistica toscana. Certaldo. È un affascinante borgo medievale situato su una collina in Toscana, noto per la sua autentica atmosfera rinascimentale e il suo centro storico ben conservato. Il Borgo Alto di Certaldo, con le sue strade lastricate e le antiche case in pietra, è un luogo ideale per una piacevole passeggiata tra la storia e la cultura toscana. Certaldo è famosa anche per essere la città natale di Giovanni Boccaccio, autore del Decameron, e ospita il Museo Boccaccio, dove è possibile scoprire di più sulla vita e le opere del celebre scrittore. Pitigliano. È un incantevole borgo medievale situato sulla cima di una scogliera di tufo, noto anche come la Piccola Gerusalemme per la sua storica comunità ebraica. Le case di Pitigliano sono letteralmente scavate nella roccia tufacea, creando un paesaggio urbano unico e affascinante. Pitigliano offre ai visitatori un viaggio indietro nel tempo con le sue strade acciottolate, le sinagoge e l'atmosfera magica che caratterizza questo borgo incantevole. Poppi. È un suggestivo borgo toscano dominato dal maestoso Castello dei Conti Guidi, un'imponente fortezza medievale che si erge sulle colline circostanti. Il Castello di Poppi è uno dei migliori esempi di architettura medievale in Toscana ed è noto per la sua torre a punta e la ricca collezione di manoscritti antichi. Il Borgo di Poppi, con le sue strade lastricate e le case medievali, è un luogo affascinante per una passeggiata tranquilla tra la storia e la bellezza paesaggistica delle colline toscane. E così, cari amici, abbiamo concluso il nostro affascinante viaggio attraverso le città più belle della Toscana. Dalle maestose opere d'arte di Firenze alle pittoresche strade di Pienza, questa regione ha dimostrato ancora una volta di essere un vero e proprio tesoro d'Italia. Spero che questo video vi abbia ispirato a esplorare la Toscana e a scoprire la sua straordinaria bellezza di persona. Ricordatevi di condividere i vostri pensieri e le vostre esperienze nei commenti qui sotto. Se avete apprezzato questo video, non dimenticatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime avventure. E ora vi lascio con un'ultima immagine di questa magnifica regione, nella speranza che possiate visitarla e sperimentarla voi stessi. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio e ci vediamo presto con nuove destinazioni da esplorare.